Giulia un modo per fare i piatti è anche cipis 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 preparatela bene preparatela bene questa prova che serve per vincere bravi bravi qua ci sta qualche giudice ehi fatela bene questa prova che serve per vincere fatela bene che serve per vincere ma una volta abbiamo fatto gli strumenti allora aspetta ci avete voi ci avete voi ci avete voi dei giudici delle squadre avversarie chi è? nessuno? di che squadra sei? tu devi essere severo devi essere un giudice severo allora ti dico sta cosa a me sta bene dovete rifarla non li fa correre sono bravissimi sono stati i migliori sono stati bravi bravi prova superata bravissimi poi ce l'avete il giudice avversario qui? si ok e poi l'amparmio cosa è oh pure ma mi è l'uomo vengo ma che cosa c non i ragazzi mi ho venguto Grazie a tutti.